Ciao ragazzi, questa sarà l'ultima puntata di 2G Wrap sponsorizzata da AirAction Vigorsol, ma il nostro programma continua, ed ha anche il concorso AirAction Vigorsol Game, vero Tommy? Assolutamente, potete partecipare fino al 31 agosto. Ringraziamo gli amici di AirAction Vigorsol e vi ricordiamo che per partecipare è sufficiente acquistare una confezione di AirAction Vigorsol con il codice promozionale GIOCA E VINCI SEMPRE. E poi andate sul sito di AirAction Vigorsol e vincete il codice film e se sarete fortunati anche uno dei 500 premi messi in paglio. Ciao gente, sono Rebecca Cazzadi e bentornati a 2G Wrap solo su TRX Radio. Bella lì, sono Tommy Cuti e bentornati su 2G Wrap con la bellissima Rebecca e l'altrettanto bellissimo, sexy, affascinante, Corby Tommy Cuti. Vabbè, c'è un po' di differenza nella descrizione. Allora, sei pronto per questo nuovo viaggio nella musica delle seconde generazioni? Pronto a tuffarmi, let's go. Ok, allora iniziamo subito, cioè inizio io, iniziamo subito, inizio io. Allora, vi devo raccontare una storia. Per quelli che non avessero seguito la settima puntata, uno, molto male, andate a seguirla subito, cioè dopo questa andate a seguirla. Seconda cosa, io avevo portato una canzone. A un certo punto c'è stato una sorta di plot twist, si è ribaltata la situazione e... È un complotto in realtà, qualcuno ha sostituito quella canzone lì. E cos'è successo? Ed era una canzone in tedesco. Ok. Quindi io oggi ci riprovo qui, signore e signori, e quindi vi riporto la canzone di Enes, Enemies. Ok. E questo finalmente era Enemies, in italiano Enes. Che ne benzi? Stavo per rubarti la battuta, la tua frase preferita e dire ci sta, ma non lo dirò. Non lo dirai. Sai cosa dirò? Non lo dirai. Dirò I like it. Ok. Però sentire questa canzone, al di là del fatto, un pezzo ok, ci sta, bella per Enes, hai detto che si chiama. Mi ha fatto sorgere questa domanda qua, epocale. No mamma mia, secondo me inizia. No, voglio capire perché, secondo te, noi rapper, nelle nostre canzoni immerge sempre la mamma. Tipo, o compro una villa mamma, o lo faccio per la mamma, o tua madre, o nessuno di la madre. La musica in pop è un po' madre centrica. Come la spieghi questa cosa? Ma io credo che, in generale, beh, la musica racconta la storia dell'uomo, no? Chiaro, però negli altri generi raramente sentiresti un artista reggae danseo dire my mother, oppure un artista pop che fa le canzoni d'amore, parlare della madre, qualsiasi altri genere. Però noi, forse perché è reale, non lo so, perché sappiamo la madre è facile, sia in senso positivo che in senso negativo. Non lo so, però sì, penso che in generale, forse essendo comunque abbastanza reale come genere, la madre è la figura centrale, no? Della vita di ognuno di noi. Suppongo di sì. E poi, sai cosa? Molte volte, cioè non tutti, però magari alcuni tendono a raccontare delle storie di disagio, eccetera, eccetera. E molte volte chi è che è la persona alla quale ti ancori nelle situazioni più difficili? Tua madre. Cioè, non detto come lui. Chiaro. A volte poi mi domando se non è tipo dovuto anche a una narrativa di certi artisti che hanno parlato della madre in una maniera che è diventata così cool, così famosa e quindi a quel punto diventa automatico, cioè ispirarsi. Siccome dice, ok, me la tiro per la mia macchina, per la tipa e poi per il fatto che comprerò casa, villa, mamma, qualsiasi cosa, non lo so. Vabbè che in questo caso Enes parlava, ha preso l'argomento in una maniera nuova, originale. Qual era il suo? No, spiegava a mamma che lui arrivava tardi da scuola perché picchiava i razzini. Un'altra spiegazione che io ho avuto è che forse spesso e volentieri molti degli artisti hanno intorno ai vent'anni e quindi hanno un particolare rapporto con la madre. Sì, adesso a me stava venendo in mente la tua canzone Amen dove dici ringrazio mia madre per le sue preghiere. Chiaro. E tu non avevi vent'anni quando hai fatto quella canzone. Chiaro. Però anche lì è diverso. Sì, no, non lo so. Tu perché? Perché? No, perché chiaramente la madre in un modo o nell'altro fa parte della mia vita e lei prega sempre per me. Ogni tanto sono convinto che le sue preghiere funzionino e quindi quando mi succede qualcosa di buono dico vai mamma, ha pagato, come si dice? Dio ha udito le tue preghiere. Sì, ha pagato la tangente a Dio. Va bene, dopo questa digressione sulle madri ora sentiremmo un artista di Brescia, si chiama Comsi de Drilla. Io l'ho conosciuto perché tipo due anni fa ero a una serata a Milano e suonava lui e mi ha scioccato che sono arrivati tipo un pullman di 50 persone da Brescia per spingersi Comsi de Drilla. E lui faceva la drill, cioè ora non so se hai notato ma quello che prima era la trap è diventata la drill. E lui la faceva prima che andasse così di moda. Ok, un precursore diciamo. Un precursore di questa roba qua. Un pioniere. Let's go. Corsa. Non siamo abituati a questo tipo di roba, ne? No. Poi scelta da te soprattutto. Rebeca! Ok, no, 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 perché sennò poi mi snicci di nuovo, non tocchiamo questo tasto. No, allora, ho avuto l'impressione che fosse quasi una confessione questa canzone. Chiaro. No, soprattutto nella prima parte quando va a raccontare del suo passato. E poi mi è piaciuto anche tanto il fatto che, vabbè, dà anche una sorta di messaggio sociale, quindi passa con le droghe e anche spiega che cosa serve la musica secondo lui, quindi dà proprio una visione del suo mondo. E poi ho notato che questa canzone è come se andasse in contrasto con quello che abbiamo detto cinque minuti fa, perché questa è papacentrica, nel senso che parla di suo papà, perché... Sì, perché si è andato. Però, plot twist, Rebeca, tu devi sapere questa cosa qua. Io, in un disco di un artista, apprezzo sempre questo tipo di canzone qua. Cioè, infatti, probabilmente Comsi avrebbe preferito che io portassi altre canzoni, perché lui fa canzoni drill cattive, però con questa qua mi arriva e mi arriva nel cuore, no? E sì, però chiaramente io, come ti dico sempre, non voglio che sia solo il mio gusto. Cioè, a volte ragiono con la mente delle altre persone, no? E quindi io metto le canzoni che bustano, come diciamo. Però sappi che io, del disco di qualsiasi artista, amo sempre quella canzone lì in cui racconta veramente qualcosa di sé e che, cioè, si mette a nudo per qualsiasi sia la sua storia. Sì. Quindi sì. Sì, sì, si avverte proprio, a parte che si avverte, nonostante racconti anche lui del quartiere, della vita in quartiere, dello spaccio, eccetera, però è un po' quello che dicevamo qualche puntata fa, nel senso che si avverte la realtà. Lo diciamo sempre, Rebeca, non lo dobbiamo mai più dire. Va bene, non lo dico più. No, magari è il discorso che non la racconta, seguendo i soliti cliché, cioè nel senso perché a volte certe persone fanno questo tipo di musica usando quelle identiche frasi fatte. Sì, no, no, lui è come se dicesse questa è la mia storia e eccola qui, no? Per quello che è. Bella per Comsi. Sì. Sai da dove viene Comsi? Dove? Te l'ho detto. Brescia. Ah, sì, no, pensavo le origini. Ok. Non ce l'ho presente, si può dire mulatto, sono confusosi, è mixed race e abita a Brescia. Ok. Next. Allora, la prossima è una donna, lei è una ragazza afro-italiana di origini nigeriane e si chiama Lina Simons. La canzone è In The Block, voglio dire la verità, non è tutta farina del mio sacco, mi è stata suggerita. Da? Giulio. Ah, davvero? Ecco perché Giulio è così partecipa, diceva. Eh! Mi sa che la conosco, abita in Inghilterra? Sì. Ah, sì, sì. Ok, e allora niente, non c'è più nessuna sorpresa, andiamo con In The Block. Let's go. Wow, Rebecca. Ti ha stupito, eh. E grazie a Giulio, dalla regia. Grazie, Giulio. Sai cosa farò in questo preciso istante? Cosa? Andrò a seguire Lisa Simons su Instagram. Giuro, perché spacca troppo sta canzone. Davvero? Ma secondo me non te la spesi lì che, ok, senti l'inizio, e poi iniziare a fare il napoletano. No, giuro, sono già fan. Come si chiama esattamente? Lisa? Lina. Lina Simons. Ti giuro, è la persona che aspettavo. Io aspettavo che lei facesse… Wow, ci siamo già parlati anche in DM. Eccola. Seguila. Cosa si scopre, Tommy? Ma no, non in quel senso. Non credo che ci siano detti nulla a discorso. Eh, dopo vedremo, non lo so. Dopo verificherò la conversazione. Però no, tanta roba, cioè, mi incuriosiva, perché poi ti confesso che è raro che io senta ragazze che rappano in italiano e hanno una loro voce, una maniera originale per farlo. Una loro personalità. Capisci? A volte sembra… Io non so chi l'ha inventata la personalità da female rapper italiano, però è come se spesso volentieri hanno proprio quella stessa intonazione, quel modo di fare così che raramente è originale. Invece, tanta roba per… Sì, poi è una cosa che… Poi è napoletano, wow, vabbè, ha il suo fascino per me. Anche secondo me. Sono zaino. Sì, sì, sì. No, un'altra cosa che mi ha incuriosito di lei è che ho letto due o tre righe su di lei e lei diceva, sì, io ho origini afro-italiane, però in realtà le mie origini non mi hanno influenzata più di tanto nella musica, se non che ogni tanto scrivo in inglese e impiggini in English e basta. Infatti poi ascolti questa canzone e… Però… Wow, quindi vuol dire che magari un giorno sentirò un pezzo misto italiano, napoletano e peace in English. Non vedo l'ora. Ti immagini? Credo che… Lina, stiamo aspettando solo te. We're waiting for you. Va bene, il prossimo pezzo che sentiremo è sempre una ragazza che secondo me spacca veramente tanto. Sono certo che molti di voi l'avrete vista perché oltre a farla cantante è una modella e tipo in varie pubblicità del mondo dello sport così, tipo da… così. E si chiama Adriana e lei ha la caratteristica che canta ma se la rappa un po', è veramente particolare e unico. Ok. Sentiamola. Mi piace, mi piace quando una donna fa la musica e si racconta e ti dice cose sensibili. Cioè io amo il rap sensibile, lo confesso, lo dico al mondo, amo il rap sensibile, le emozioni delle persone, le storie vere, cosa gli ha fatti diventare la persona che sono i traumi che hanno subito, amo il rap dei traumi. Amo il rap dei traumi. Sì. Wow. Wow. No, è vero. No. È vero. Anche tu ha il rap dei traumi. È vero. Cioè quando uno mi racconta, non lo so, io da piccolo non mangiavo, mio nonno non c'era, il cane tornava ogni tre giorni, quello dico sì. Sì. Non sì, che bello che hai sofferto, però raccontami di più, no? Assolutamente. Tipo c'è un artista che magari mi piace in particolare, si chiama Mick Mill, è un artista americano, e lui in ogni disco ha quella canzone lì che è la canzone del trauma. Infatti una si intitola Trauma, in un disco poi un'altra si intitola Traumatized. Ok. That's my shit. Ok. Sì, parla della sua rough growing up, così. Ovviamente poi vabbè, un disco è un viaggio, quindi non puoi fare… potresti anche fare un disco tutto di trauma, tipo un… Traumatic music 2021. Eh, potresti farlo, però insomma magari alternare non sarebbe male. Magari un po' peso. Sì, stavo pensando che prima parlavamo delle mamme, una cosa che ho notato io, dimmi se magari mi sbaglio, è che invece quando si parla dei papà nelle canzoni, a parte la canzone che abbiamo sentito prima, però nell'ottanta per cento delle volte si racconta di papà assenti, di papà che non c'erano. Chiaro. È una sorta di comune denominatore. Hai ragione. Eh, ma secondo me è anche dovuto al fatto che… Prima di tutto quella narrazione sta in piedi, non lo so. Sì. Cioè la narrazione del voglio bene a mio papà. Non è cool come voglio bene a mia mamma. Sì. Però io voglio bene a mio papà, basta, la mia prossima canzone sarà dedicata a mio papà. Dobbiamo spingere per una musica un po' più papacentrica. Un po' pacentrica. No, non lo so. No, però poi secondo me anche che metti che spesso volentieri un artista, una persona secondo me è sensibile e questa sensibilità è portata da certi traumi che uno può aver avuto in passato e spesso e volentieri ti confesserò che quando parlo a molti altri rapper, un trauma comune denominatore è la mancanza del padre, che tu devi crescere in fretta e diventare uomo da solo. Se la vi succede. Se la vi succede. Sì. Non è il mio caso però. Bella lì. Allora, adesso è il mio ultimo brano. Prima però voglio ricordarvi che noi abbiamo una mail che è la seguente. Quindi se anche tu pensi di essere un artista di seconda generazione che spacca, mandaci una mail con tutti i tuoi dati, linkaci il tuo pezzo e magari potrai entrare a far parte della nostra puntata. So che tu ne dubiti, so che tu ne dubiti, ma in realtà le leggiamo queste mail e molti brani che mettiamo nella trasmissione vengono presi da queste mail. Allora, questo brano qua è una sfida, nel senso che sono conscia che tu potresti avere qualcosa da ridire. Oh mamma mia. Ok, quindi è in inglese. Ok. Il ragazzo è un ragazzo afro-italiano di origine congolese. Oh my God. È un desavu. Esatto, però a differenza dell'altro, lui è cresciuto in Inghilterra, ha studiato in Inghilterra, si è laureato in Inghilterra e quindi non lo so. Vediamo. Allora, lui si chiama NGKM, la canzone si intitola The Song You Never Had. Ma, o mi sento troppo di aver voce in capitolo per giudicare quanto è bello? Non lo so, cioè, è bello. Sono confuso, non so cosa dire, ci sta. Cioè, se passasse in radio l'ascolterei, una volta, due volte non mi dispiacerebbe. Oh, ok. Però non riesco... Allora, non è quella canzone che ti è entrata nel cuore, però non è neanche quella che dici fammi schippare perché... Chiaro, chiaro. Ok. Poi ti confesso che io questo multi-musica non l'ascolto neanche troppo... Ok. Cloud, un po' dark, così. Ok. Ci sta. No, a me sono piaciute due cose. Uno, il fatto che lui ha mixato inglese e lingala. Ah, non me ne sono accorto. Sì. La seconda cosa, in realtà, è che io avevo ascoltato già delle sue vecchie produzioni e io mi sono proprio accorta che ha fatto una crescita esponenziale, quindi... Ah, Rebecca, che segue questi giovani e li accompagna nel loro percorso. E terza cosa, la mail che ha mandato, top! Cioè, ha mandato tipo un PowerPoint con la sua storia, ha mandato il testo della canzone con la traduzione, ha mandato la sua biografia, insomma... Chiaro. Ma ammetto che a volte vedere il video, avere più informazioni, ti può capire maggiormente cose. Il viaggio. Però poi ci sono canzoni come questa qua che stiamo per andare a sentire, che siccome è in italiano corretto e capisco quello che dice, capisco il contesto, capisco, non mi serve il video per apprezzarla. Il prossimo pezzo che sentiremo è Easy Live di Roy Rahim. Senti che... Con questo Easy Live vi presentiamo l'ospite di oggi, il nostro fratello Mutimbi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Wow, erano anni che speravo di avere chance di avere una conversazione con te e la faremo in questa sedia qua. Addirittura, mi potevi chiamare, fratello. Non lo so, però sai come siamo. Beh, effettivamente. Hai dovuto organizzare tutto questo per fare una chiacchierata. Certo di rendi conto, per parlare. Esiste Whatsapp? È giusto, è giusto. Non mi ha impressionato. No, però ho un sacco di domande da farti. A partire da... Bro, in questo periodo sei un po' antisocial. Eh, da un po'. Da un po'. Ormai saranno da... Due, quasi tre anni. Cioè, sono tornato sui social per l'album. Però in realtà mi ero distaccato un paio d'anni fa e ne ho iniziato a vedere benefici sulla psiche, sulla vita in generale, sia dal punto di vista vita privata, sia dal punto quindi anche dai mie social come Michelle e sia anche dai social come Mudimbi, però per motivi leggermente diversi, nel senso che come Michelle non avevo più tutto questo bisogno di condividere il mio privato e mentre come Mudimbi non avevo niente di artistico barra musicale di cui parlare e non volevo ridurmi a fare quello che stavo rischiando di fare, ovvero sia l'influencer del nulla. E quindi mi sono fermato. Non è stata una decisione sofferta, ti dico la verità. Davvero? No, no. Però mi immagino... Cioè, tu sei un tipo comico, divertente. Cioè, sei il tipo di persona che sarei veramente curioso di vedere i cazzi tuoi, te lo giuro. Ok, ok. Voglio sapere che cazzo mangi, dove sei, che film guardi al cinema, con chi esci, che musica ascolta. No, 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 lo prendo come un bel complimento. Sì, sì, però... Guarda, non è detto che non torni a farmi vedere di più. Devo un attimo capire una formula che non faccia attrito con la mia vita reale. Perché stavo pensando, noi qualche puntata fa abbiamo parlato con Maruego e lui diceva, secondo me, i nuovi VIP del futuro sono quelli che non mostreranno tanto della loro vita. Certo. Però io penso anche che un artista non dovrebbe, soprattutto nel ventunesimo secolo, che adesso proprio è la parte in cui il social spopola di più, puntare un pochino più sui social. Tu comunque adesso hai fatto, cioè, da poco hai fatto uscire un album. Non dovresti spingere, non per forza raccontando la tua vita, ma puntare soprattutto sui social adesso per spingere la tua musica, la tua produzione artistica. Allora, è vero quello che dici. Io credo che, poi è il mio pensiero, quindi non è nemmeno detto che sia quello più corretto, bisogna trovare la centratura tra chi sei e il modo in cui comunichi. Perché se spingi su un acceleratore che non è il tuo, la cosa di cui mi sono reso conto è che spesso si dice comunque che il pubblico dall'altra parte sono solo numeri, quello che gli dai in pasto loro se lo prendono. Però in realtà la gente, secondo me, lo capisce, se c'è discrepanza tra la persona che sei e quello che cerchi di far vedere. Se sei un babbo e comunichi da babbo, comunque sia, sei coerente. E la gente questo lo rispetta. Poi, ovviamente, piace o non piace in base ai gusti. Nel mio caso non ho trovato, oppure a una certa ho perso, questa centratura. E quindi piuttosto di fare promo solo per fare promo, dal momento che me la vivo ancora, in una maniera abbastanza romantica, questa cosa della musica. Cioè, nel senso, voglio farla nella maniera che mi fa stare bene. Se inizia a diventare una sofferenza, lascio perdere. Magari i soldi provo a farli cercandomi un altro tipo di lavoro. Certo. E nel frattempo questa rimane la mia isola felice. Una passione, diciamo. Però, sono anch'io un po' convinto che a volte sottrarsi dai social possa essere qualcosa che suscita ancora più interesse. Ok? Cioè, Tommy vuole sapere che film guardo, cosa mangio. Che ne lo diremo. Assolutamente. Lo dico nella musica. Assolutamente. Vuoi sapere cosa mangio? Ascolta il mio disco. Esatto. Però, occhio, perché poi si può rischiare anche di andare, appunto, per eccessi dalla parte opposta, per lo sia tutti cercano l'allone di mistero. Se hai qualcosa da dire, dillo. Se non hai niente da dire, sta zitto. Cioè, proprio la regola aurea. Chiaro. Una delle ragioni per le quali ho voluto che tu venissi qua e parlassi con noi è che ho sentito il tuo ultimo disco ed è molto particolare. Quando si parla di sperimentazione, qua siamo a livelli estremi, perché, se non sbaglio, tutte le canzoni sono state create con sample vocali fatti da te. Sì, 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 con la mia voce. Infatti, prima di tutto, vorrei sentirne una. Mettiamo la canzone del tuo ultimo video. E questo era un pezzo matto di Mudimbi. Domanda. Ho visto il video, che pazzo, un po' come te. Ma come tutta la musica? Quindi, prima di tutto, come ti è venuta l'idea di fare un disco così particolare? E perché sei così strano e diverso e particolare? Allora, mi è venuta l'idea che in realtà è stata più un'esigenza, perché ero proprio in questa fase di chiusura totale, quindi niente social in generale. Proprio chiusura molto introspettiva, in realtà. in cui avevo anche messo in discussione l'idea di continuare a fare musica. Quindi mi sposto da San Benedetto del Tronto, dove ho vissuto per 32 anni, e mi sposto qui, su Milano, ok? Proprio per rimettermi in gioco, nel senso mi tolgo dalla mia comfort zone, e vediamo. Perché ero un po' troppo comodo negli ultimi anni, ok? C'era stato a Sanremo, c'erano state cose buone, che però mi avevano fatto perdere la cazzimma. Ma tu stavi ancora a San Benedetto? A San Benedetto, a Sanremo. A San Benedetto, quando hai fatto a Sanremo? No. Stavo sempre a San Benedetto del Tronto. Sì, 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 ho fatto sempre tutto da lì. Cercavo un po' questa cazzimma, che stavo perdendo, e che ho detto, mi sposto a Milano, grande città, dove non sono comunque nessuno, e mi rimetto in gioco e vediamo che succede. E non pensavo alla musica, pensavo in realtà alla radio, avevo pensato a un po' di cose, alla recitazione, un tot di porte avrei voluto aprire, però in realtà la musica è tornata ad insinuarsi, nel senso che nel tempo libero comunque avevo voglia di scrivere. E io non sono uno che scrive in maniera compulsiva, cioè ho sempre scritto le cose che poi ho pubblicato, pochissime robe le ho buttate perché non mi convincevano. E questo significa che ho scritto anche poco, in realtà, in vita mia. Niente, mi ritrovo a scrivere, però era questo momento introspettivo, quindi non avevo nemmeno tutta questa voglia di interfacciarmi con qualcun altro, con un producer, non avevo voglia soprattutto di due cose. Uno, di stare dietro alle tempistiche, che sono fisiologiche, del ti mando la roba, me la rimandi indietro, aspetto che me la rimandi indietro, nel frattempo magari mi è passata la scintilla. E l'altra cosa è che comunque mi stavo ancora chiedendo, ma una mia idea esattamente per come la concepisco, anche musicalmente, perché ho sempre pensato melodie, robe, arrangiamenti nella mia testa, ma non sapendo suonare, poi mi sono sempre affidato ad altri, e anche quando gliela spieghi non sei mai sicuro al 100% di stare spiegandogliela bene, che l'altro la recepisca bene. Perché ho detto, guarda, ma faccio una roba, tanto tempo da perdere, mi faccio tutto il provino con questo pseudo beatbox, perché non so fare beatbox. Però, quello che mi ricordavo da quando lo facevo da ragazzino, mi metto i miei suoni su Ableton, me li campiono per bene, mi metto in griglia, e quando andrò dal produttore, non gli devo spiegare niente, gliela faccio sentire, mi fai la bella copia di questa. Vado dal produttore, inizialmente era andato da Mace, che la prima volta che l'ha sentita, mi ha detto, guarda, prima cosa, non sono io la persona adatta, perché questa roba è troppo happy, anche se in realtà poi c'è dell'ironia che scivola verso la tragedia, però comunque sia come estetica, secondo lui non era la persona più adatta, e mi ha suggerito altri due ragazzi, ma si è assicurato che non smontassimo niente di quella che era la struttura fatta a voce. Quindi nemmeno io in realtà ci credevo così tanto, anzi ero partito con l'idea di chiedergli poi a Mace appunto, non è che magari possiamo tenere due o tre delle cose che ho fatto con la voce, due suonetti giusto per una soddisfazione mia, e invece lui da produttore mi ha detto, guarda frate che sta roba, un suono più tuo di questo, non te lo darà nessun producer, e quindi è nata così. Attualmente sto studiando pianoforte, tra l'altro, perché comunque mi è venuta adesso voglia di capire effettivamente di non fare solo ad intuito. Non so se rifarei una cosa del genere, cioè comunque quest'album anche per me è molto strano. E il motivo per rispondere alla seconda domanda, perché sono così strano? Secondo me perché ho un background diverso da quello che è il solito background, da cui perlomeno veniva la mia generazione, e anche da quello da cui vengono le nuove. Cioè comunque vengo ok dal rap, ma ci sono stato poco nel rap, duro e puro. Poi sono andato subito nella Denzel, poi sono passato dalla dubstep, un po' di grime, tanto elettronico, ho cantato ai rave, rave, quelli pesi. Cioè comunque sia l'ho mischiato questa rap. Ma domanda, cioè tipo, metti che io ad un certo punto, a 14 anni, ho scoperto Eminem e 50 Cent, ed è stato un pugno in faccia, ha influenzato la mia vita da gli adenire. Qual è stata la tua ondata che ti sei beccato? No, io ho iniziato il giorno che ho visto in TV, su TMC2, perché a casa mia ero così sfigato, che non si prendeva nemmeno in TV, su TMC2, Deria Slim Shady. Ok. Mi ha folgorato, ho dovuto aspettare tipo una settimana col tasto REC pronto con la videocassetta, perché ancora al 2000 andavo di videocassette, per registrarmela, dopodiché in loop la rimettevo indietro, riavvolgevo, e mi sono scritto a mano tutto il testo, ma per come lo pronunciava, perché non capivo una parola. E l'ho cantato per anni, senza sapere quello che stavo dicendo, in inglese maccheronico, ma era proprio la voglia, me ne rendo conto poi adesso, era proprio la voglia di masticare quelle metriche. La fame. Sì, volevo proprio riuscire a incastrare quei suoni e vedere che effetto mi dava proprio a livello di potenza, di articolazione. Quindi quello è stato, subito dopo, Basta Rhymes. Cioè per me come Eminem l'ho perso dopo poco, tante cose. Diciamo quando ho iniziato ad urlare un po' troppo, per me quell'Eminem, bravissimo comunque, però non mi entusiasmava più. E Basta Rhymes invece è stata la mia più grande scoperta e credo che sia stato quello che più di tutti mi ha ispirato, perlomeno nel rap. Anche perché è stato il più trasversale. Cioè l'ho sentito fare cose che strissavano l'occhio allo stile più giamaicano, piuttosto che cose più da dance, floor. assolutamente. No, no, ci sta. Oh, vogliamo sentire, cioè io, poi ne parliamo approfonditamente, io chiedo sempre agli ospiti di farmi sentire cosa ascoltano loro dell'universo 2G in Italia e tu mi hai portato David Blank, no? La canzone di David Blank per il quale abbiamo parlato. Poi ne riparliamo, sentiamola subito. Allora, è successo che ho chiesto a Mudimbi, Ehi, portami una canzone, un paio di canzoni rap di ragazzi italiani che tu ascolti e tu mi hai portato David Blank. Però dopo questa intervista che abbiamo fatto fino adesso ho intuito, anche perché tu hai portato una canzone non prettamente rap, si può dire che tu sei musicalmente fluido, o no? Eh, è brutto fratello, minchia. Ma scusami, ma tu non hai mai avuto la fase in cui ti definivi rapper e dicevi io sono rap, questo è l'hip hop, questa è la mia cosa? Guarda, finché mi vestivo baggy. Sì? Finché mi vestivo baggy. Poi una certa ho iniziato a capire che utilizzavo il mezzo rap, conoscevo la cultura, però non la stavo più vivendo, cioè nel senso iniziavo veramente a volermi aprire perché mi iniziava a stare un po' stretto, un po' stretta, scusa, la cultura, che poi comunque appunto negli anni 2000 era ancora più stretta, chiaro, più astringente e quindi no, a una certa effettivamente è iniziato anche un po' a crearmi dell'attrito quando venivo definito o mi definivo rapper perché sapevo che andava l'altra persona andava subito a cogliere un immaginario che non era il mio. Categorizzare. Sì, esatto. Questo non da parte mia per denigrare, ovviamente, per sputare nel piatto in cui ho mangiato e comunque tutto ramangio, ma perché ho anche altro nel mio repertorio, d'accordo? Poi alla fine faccio rap, ovviamente, però lo stesso discorso fece tanto tempo fa, per esempio, Caparezza. Sì, stavo pensando esattamente a quello. Ma nessuno gli direbbe che è un rapper. Sì, però è un rapper tra i rapper più bravi assolutamente. C'è delle metri che sono dei mitra. Ma ai tempi tipo la tua prima canzone che io ho sentito è Supercalifrigida. Ok, sì. Ero un rapper in quella fase o non ti sentivi un rapper? Allora, in realtà, sì, perché quella fratello l'ho scritta a 18 anni, è uscita quando ne avevo 28. Figa! Quella io l'ho scritta tra l'altro sul Wipeout Rhythm, quello che è fatta era cantata al doppio della velocità. Eh, sì. Sì. Sì, sei tu l'esperta di matematica, spero, perché io posso solo annuire. Tu hai scritto un pezzo nel 2004 ed è uscito 10 anni dopo. Sì, perché quello lo cantava le Denzel e ero talmente geloso che ho detto non c'è un producer, per quelli che conoscevo io che fecevano comunque tutti i beat, i pop, non c'è un producer che me la possa valorizzare, non la voglio sprecare, quindi la continuo a cantare su questo Wipeout, poi un giorno se trovo qualcuno. Un giorno ho trovato questo De Klerk casualmente tramite un post di un mio amico su Facebook, aveva tre tracce in totale, tre produzioni su SoundCloud, tutte e tre delle mine, ho detto guarda gli scrivo e vediamo che succede. Gli ho mandato la cappella, il giorno dopo mi ha mandato la traccia così com'è. Wow, quello è stato un mezzo miracolo. Alle serate alternative di Brescia ballavamo quel pezzo. Ecco, esatto, sì, sì, sì. E mi piaceva, però io non sapevo che aspetto avesse mutimi, infatti quando ti ho visto ho detto io volevo chiederti una cosa che in realtà hai affrontato un pochino prima ma volevo sviscerarla un pochino di più. Allora, tu hai detto che dopo Sanremo 2018 a un certo punto hai perso la cazzimma. Volevo capire che cos'è successo esattamente e ad oggi, col senno di poi, con quello che hai vissuto dal 2018 ad oggi, rifaresti Sanremo o è una parte... Quel Sanremo? Quel Sanremo sì assolutamente lo rifarei. Cioè nel senso rifarei le stesse cose comprese gli errori se ci sono stati errori. Assolutamente. Un altro Sanremo ora no perché non avrei proprio niente da dare né credo avrebbe niente da dare a me. Un giorno non posso saperlo. Però quel Sanremo di brutto. Cioè io mi sono veramente divertito. Veramente divertito. È stato il post Sanremo che è qualcosa che ho iniziato a non capire e ho iniziato a vedere delinearsi delle strade che un po' non avevo previsto un po' avevo immaginato ma sai le cose te le immagini però poi quando le vivi ti rendi conto che minchia le immaginavo un po' diversa però magari ci provo comunque non ci provo dubbi alla fine alla fine della fiera il mio reale problema è stato che non avevo chiara la direzione e se non è chiara la direzione vai dove ti porta il vento giustamente e rischi di perdere la bussola esatto quindi come ho fatto io una certa tiratere mi imbarca dico mi fermo qua in mezzo all'oceano ci penso un attimo e vediamo quello che devo fare eppure sembravi così chiaro nella tua direzione però nessuno sa cosa si vede è il discorso che facevamo prima sui social su come comuni è chiaro sì ma non sei neanche magari pronto nel senso che tu puoi farti un sacco di piani eccetera eccetera però poi Sanremo è talmente anche proprio a livello mediatico una bomba che esplode e tu poi non so magari anche dalle persone che hai a fianco quelle sicuramente ti possono indirizzare quelle fanno una grossa differenza indirizzare o far sbandare possono fare una grossa differenza ora sentiamo il prossimo pezzo il secondo pezzo di Movedimby che è Mike Lennon puoi dirmi in una frase perché hai messo il pezzo di Mike Lennon? eh bro perché ci vivo in Viale Padova ah ok è lì vai io bro ogni tanto sui miei social mi rendo conto che faccio dei video divertenti in cui parlo delle stesse cose di cui parlo in certi video seri però quando ne parlo in modo ironico magari gira e diventa quasi virale quindi l'ironia si può dire che è una maniera per spiegare certi concetti che la gente farebbe fatica a comprendere tu come hai scelto la strada dell'ironia come te la vivi questa cosa qua? guardo io l'ho scelta perché ci sono cresciuto proprio nella famiglia in cui sono cresciuto nella mia famiglia e appunto era un modo per indorare la pillola nel senso comunque te la sto dicendo te la dico col sorriso che se la capisci ok se non la capisci magari la capisci in ritardo ti arriva anche più pesante come cosa perché dici minchia quindi sono stato pure fesso e per me è stato un gioco un allenamento che mi sono portato dietro da sempre e poi anche perché non mi sono mai sentito e nemmeno mi ci sento nella posizione di poter sparare sentenze cioè non è con la verità nel taschino quindi non è che arrivo io e ti spiego come funziona la vita d'accordo magari ti dico il mio punto di vista ma te lo dico appunto indorandolo indorando la pillola in modo che magari ti arriva magari non ti arriva anche se ti arriva comunque non potrai puntare il dito verso di me dicendo è arrivato il maestro di questa ceppa che mi vuole insegnare magari era una battuta magari no comunque ti rifai sempre con l'ironia anche e soprattutto all'orecchio di chi ascolta no stavo riflettendo su questa cosa dell'ironia che arriva dopo e io questa cosa l'ho vissuta un sacco ascoltando il tuo disco ah sì perché allora la prima volta che l'ho ascoltato ero tipo su certe canzoni ah cosa ok l'ho riascoltato e lì ho capito un pochino grande mi fa piacere questa cosa quindi concordo grande prima di mandare l'ultimo pezzo che è di fortissimo domanda ma è mai esistito un mood in biserio incazzato? sì però è morto presto non lo conosce nessuno se la vivi la fase beh quando inizia beh credo che tutti quelli che iniziano col rap iniziano col nemico immaginario sì di brutto mamma minacce proprio a voi coltellate qualsiasi cosa però non ero credibile nemmeno per me lo vado a cercare nel web l'ultimo pezzo di fortissimo è stato un piacere essere qua con te piacere mio grazie mille vi salutiamo grazie a voi ciao alla prossima puntata ciao gente